Prosegue il divieto di balneazione temporaneo in alcuni punti della riviera romagnola quasi tutti lungo la costa del Riminese dopo gli sforamenti dei limiti di Escherichia Colli e Dentorococchi evidenziati dalle analisi di Arpa e di Lunedì. Dei nuovi campionamenti delle acque specifica all'istituto sono stati eseguiti martedì e le analisi hanno bisogno di 48 ore prima di fornire i risultati dunque in questa fase il divieto è solo a scopo precauzionale. I primi esiti delle analisi di martedì sembrano positivi e dunque l'acqua è teoricamente tornata balneabile ci spiega il dirigente di Arpa e Luigi Vicari però per precauzione bisogna aspettare il completamento delle analisi aggiunge. Le bandiere bianche e rosse che indicano il divieto di balneazione sono state issate nuovamente martedì pomeriggio. I segnali di divieto erano stati esposti anche lunedì come da prassi 24 ore dopo la pioggia e la conseguente apertura degli sfioratori a mare. Sono i bagnini i primi a rassicurare i turisti. Si tratta di una mera questione burocratica ha detto all'Ansa Mauro Vanni presidente della cooperativa dei bagnini Rimini Sud specificando che i campionamenti sono stati eseguiti proprio durante il divieto. Il mare è stupendo cantano in coro gli operatori balneari.